Dunque ufficiale, il Consorzio di Bonifica del Tirreno Cosentino, l'Exlao, ha avviato la memoria difensiva contro il procedimento di commissariamento dell'ente. Azione proposta dal dirigente del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, funzionario tra l'altro uscente, precisano dal Consorzio. Chi amministra l'Exlao, eletto nel settembre 2014, rimanda al mittente le accuse di aver commesso gravi irregolarità amministrative, anche perché, spiegano, non avremmo potuto effettuare gli eventuali errori addebitati. Nessuna irregolarità è stata di fatti segnalata nel dispositivo, fanno notare dal Palazzo Dirigenziale una storia lunga e complessa, quella del Consorzio di Scalea, soprattutto in questi ultimi mesi, prima il commissariamento con Gravina, quindi l'elezione per lo stesso Gravina, che da commissario diventa presidente. A questo punto i ricorsi di Prolao per l'esclusione di una delle liste dalla competizione, il Tarra accoglie l'appello e quindi annulla il risultato elettorale della sola terza sezione, nuove elezioni fissate per marzo 2015. Da Scalea parlano dell'incauta ingerenza del Dipartimento, comportamento che per i dirigenti limiterà il buon andamento dell'amministrazione consortile. La memoria difensiva, associata alla serenità di giudizio del responsabile del procedimento e soprattutto la nuova giunta regionale, acconsentiranno l'immediata ripresa delle attività dell'ente. E questa è la certezza del presidente Davide Gravina. L'ente consortile, dopo aver subito la riduzione dei trasferimenti di risorse regionali, lavora per la riorganizzazione, la progettazione e la programmazione nei settori della bonifica, dell'irrigazione, delle energie rinnovabili e della forestazione. Ma, fanno sapere da Scalea, le continue interruzioni disposte dalla struttura regionale di controllo e dal dirigente generale del Dipartimento rappresentano pesanti ritardi di cui l'ente certamente non necessita.